È in carcere con l'accusa di omicidio premeditato Sergio Uccero, 55 anni, libraio originario di Sondrio, da due anni residente a Iesi che ha ucciso a coltellate il suo rivale Alessandro Porrovecchio, manager torinese che stava frequentando la moglie. La folle Mattanza sabato mattina è in stazione a Bologna davanti a decine di viaggiatori. Uccero, rappresentante per la Einaudi, aveva aperto una libreria nel centro storico di Senigallia e da qualche tempo viveva con la moglie Giuliana, di 49 anni, in un casolare nelle campagne tra Iesi e San Marcello. La donna sabato mattina è salita sul treno a Senigallia per andare a Bologna. Al marito avrebbe detto che nel capoluogo emiliano avrebbe incontrato una parente. Uccero l'ha seguita in auto. Alla stazione, alla vista dell'incontro affettuoso tra la consorte e Porrovecchio, accecato dalla gelosia, si è scagliato contro il rivale vedovo con due figlie. L'ha freddato con poche coltellate alla schiena e al torace davanti alla moglie. Nel panico generale, viaggiatori in fuga e urla, si era pensata addirittura ad un attentato, lì nella stazione di Bologna, custode della tragedia del 2 agosto del 1980. Il dramma invece era tutto nella mente di un uomo, descritto da chi lo conosce come una persona mite e amante della poesia delle passeggiate in campagna con il cane. Non scappo, ho fatto quello che dovevo, avrebbe detto quando è stato bloccato dagli agenti della Polfer. Non accettava la fine del rapporto con la moglie, ridotto a brandelli di solitudine e silenzi. Secondo quanto riferito dalla donna, ormai da mesi vivevano da separati in casa. Lei aveva conosciuto Porrovecchio a luglio a un concerto jazz. Da allora il loro era stato un rapporto a distanza, fatto di mail, lettere e telefonate.